Promosso dalla locale sezione FIDAPA, presso la Biblioteca Antoniana di Ischia, si è tenuto un interessantissimo incontro dibattito sulla fibromialgia, una patologia di cui al momento in Italia sono affetti circa 2 milioni di persone. Relatori dell'iniziativa sono stati il dottor Altirio Calvanese, medico reumatologo esperto in fibromialgia e terapia del dolore ed il dottor Antonio Fimiani, medico, fisiatra e direttore delle terme di Ischia. E mentre le nuove tecniche di individuazione della malattia consentono di rilevare un sempre maggior numero di casi, c'è da fare ancora molto per andare incontro a coloro che sono affetti da fibromialgia, realizzando percorsi diagnostici e terapeutici specifici, come si sta facendo ad esempio presso l'ospedale San Gennaro di Napoli e rendendo mutuabili i medicinali a base di cannabis che attualmente stanno dando i maggiori risultati, come ha spiegato davanti alle nostre telecamere il dottor Calvanese. Sì, diciamo che è una patologia che riguarda in Italia circa 2 milioni di pazienti e con i nuovi criteri diagnostici, quelli lì perfezionati nel 2010, 2011 e infine nel 2016, addirittura stiamo facendo sempre più diagnosi perché i criteri diagnostici sono diventati sia più sensibili ma anche più specifici. Diciamo che è molto richiesta la presenza di tutte le istituzioni accanto a noi medici perché i pazienti con fibromialgia non hanno al momento delle esenzioni specifiche per la loro patologia. È stata introdotta lievemente nei LEA, nei livelli essenziali di assistenza, ma mancano ancora, soprattutto nella nostra regione, dei PDTA, cioè dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali specifici per questo tipo di malattia. Per cui, diciamo, ancora adesso i pazienti sono relativamente abbandonati nel loro percorso sia per arrivare alla diagnosi ma soprattutto nel loro percorso terapeutico. Io a San Gennaro, grazie anche alla direzione sanitaria e al mio direttore responsabile, il dottor Antonio Maddalena, stiamo organizzando a partita da gennaio un ambulatorio esclusivamente dedicato alla fibromialgia e non un ambulatorio reumatologico generalizzato, proprio per cercare di favorire l'accesso ai pazienti con sospetta diagnosi di fibromialgia in un percorso diagnostico-assistenziale creato da noi, che vedrà diverse figure, tra cui consulenti come neurologi, nutrizionisti, psicologi e quant'altro, che possono far parte di questo percorso dedicato proprio al paziente fibromialgia. I sintomi della fibromialgia sono molto simili anche ad altre patologie. Come ci si accorge che uno può essere affetto da questa patologia? Diciamo che in realtà sotto l'esperienza del medico e su tutti i criteri di esclusione, cioè bisogna escludere le principali malattie reumatiche e non che possono simulare una fibromialgia. Diciamo la cronicità della patologia, la non progressività verso sintomi che vanno verso altre malattie e soprattutto la risposta positiva a determinati farmaci ci permettono di orientarci nella diagnosi di fibromialgia. Volevo dire un'altra cosa che ci siamo soprattutto specializzati noi a San Gennaro nella terapia con la cannabis terapeutica che rappresenta secondo me la chiave di volta, forse non definitiva, ma sicuramente una risorsa terapeutica molto interessante nella terapia di questi pazienti. Stiamo seguendo nell'ambito sia della terapia del dolore che della laboratoria di reumatologia che ho curato fino adesso un numero abbastanza cospicuo di pazienti fibromialgici e la risposta alla terapia con la cannabis è stata superiore al 70%, quindi diciamo senza grossi effetti collaterali, il drop out, cioè l'abbandono della terapia è stato minimo e dipende molto spesso più dalla carenza del farmaco, delle farmacie che dalla volontà da parte del paziente o da parte del medico di sospendere il farmaco in essere. Quindi per i pazienti un doppio problema, quello che al momento le cure sono a pagamento, non ci sono esenzioni e anche la difficoltà a trovare questi farmaci a base di cannabis per potersi curare. Sì, purtroppo l'Italia produce pochissima cannabis solo a Firenze all'istituto chimico farmaceutico militare, ne importa pochissima rispetto al fabbisogno nazionale e su tutti i percorsi sia prescrittivi sia attuativi da parte dei medici di base e in ultimo le farmacie galeniche che sono relativamente poche sul territorio, su tutte quelle che sono poi specializzate nella preparazione di estratti a base di cannabis, costituiscono delle reali difficoltà per il paziente.